Si allarga il focolaio nella casa di riposo sul Monese. È stata un'altra nottata movimentata per gli operatori sanitari dell'ospedale e quelli della struttura alla luce delle nuove richieste di diagnosi ospedaliere. Quattro ospiti, tutti positivi al Covid, sono stati trasportati nell'area grigia del nostro comio dopo la comparsa di febbre e di sintomatologia tipica legata all'infezione e in corso la diagnosi dei medici per decidere la loro collocazione. Sempre nottate, sarò trasferito nelle malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila un altro ospite della struttura, una processione, contandoli virgolette, di ambulanze tra via Le Mazzini e via Montesanto, che ha reso la scorsa notte tutt'altro che tranquilla, è proprio il caso di dirlo. Il fronte della struttura è stato definito in mattinata. Complessivamente 19 ospiti su 30 sono risultati positivi, di cui 5 ricoverati all'Aquila in condizioni pressoché discrete. La tempestività della diagnosi, la doppia dose di vaccino secondo i sanitari, hanno evitato il trasferimento in area critica. Più contenuto il Covid tra gli operatori, hanno contratto l'infezione 2 unità su 10, numeri importanti che hanno spezzato la relativa tranquillità della casa di riposo. Proprio in questa settimana avevamo programmato le terze dosi, purtroppo il virus è arrivato prima. Siamo sempre stati attenti da due anni a questa parte, le misure da adottare, ricordano i gestori che hanno reperito nel frattempo personale a supporto. L'origine del contagio sarebbe da ricercare al di fuori dell'ambiente della struttura. La speranza è che nelle prossime ore il contagio si stabilizzi definitivamente, visto che all'interno della struttura sono stati predisposti percorsi ad hoc per l'isolamento.